visto delle prove di questo power bite della barclay e oggi lo testeremo prima lo testeremo con varie prove che farò io in casa per poi portarlo alla fine portarlo in pesca la prima cosa che possiamo notare è la scatolotta ermetica tiriamo fuori il vermicello assomiglia molto a quello vero come odore devo dire la verità sembra quasi lombrico plastificato come consistenza si è veramente uguale al verme ora provo a tagliarla se buona consistenza questo permette un buon aggancio alamo e può tranquillamente reggere diversi attacchi nell'ordine dei 10 15 pesci prima di distruggersi del tutto forse anche di più si buono buono calcolando il prezzo ve lo dico io 8,50 euro è meglio che con un'esca si prendono parecchi pesci dentro ce n'è più di una sessantina tutte attaccate una con l'altra adesso faremo diverse prove inventate sul momento da me e vediamo il risultato delle prove ragazzi una delle prove che andrò a svolgere esattamente due e sugli animali e una sugli esseri umani e vediamo che succede questa è un'altra prova seduta ora gli darò il verme finto primo sicuramente lo naserà vedi che comincia a nasarlo seduta e se te lo mollo lo mangi le catina pronto a mangiarlo per aver mangiato l'ho mangiato addirittura lo sta masticando in poche parole a ragazzi l'ha mangiato perciò anche a gusto può andare prova superata che ragazzi un'altra prova estremamente interessante andremo a farla con i miei due tester i miei due tester sono pallocchio angel che avete già conosciuto in precedenza praticamente io cosa faccio inforco il finto verme e vediamo se i miei due ragazzi ci danno in automatico ora proviamo a immaggere il verme e vediamo se ci danno subito ok proviamo vediamo e ci danno subito angel l'ha schivato vediamo un po adesso lo faccio ecco 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 all'inizio ci danno subito calcolando che non sono predatori questi come le trote che sono eccitate vediamo angel angel non ci dà però sul momento ci andato subito ecco vedono qualcosa che casca si sono spaventati però è una bella prova allora ragazzi la prossima prova è spaventare mia figlia metto il penarello qua vicino al al bigatino alla camola finta e vediamo la sua reazione siria per piacere mi prendi il penarello grosso che è sul tavolo bianco vicino al piccolo alberino ragazzi che dire power bite su tre prove ne ha superate due sugli animali sia sui miei pesci sia sul mio cane ora aspettiamo la prova sul campo con le trote mi raccomando like segnate la campanellina per i nuovi tutorial e per i nuovi test che farò sulle varie esche grazie ciao